e sal tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono sempre io il vostro giurassic 4 ciò non 10 e oggi siamo finalmente tornati su team fortress 2 siamo qua per distruggere qualche bellissima persona e ho scelto la mappa quella col carrello che è la mappa la modalità è gioco quella dove praticamente una squadra deve spingere il carrello fino alla fine e l'altra squadra deve fermarli prima che scada il tempo perché è tipo anche la prima di questo gioco aveva fatto questa modalità non lo so comunque oggi sceglieremo non lo so sceglieremo qualche bel personaggio tipo il soldato oppure anche potremmo provare a usare anche l'esploratore perché c'è lo scout perché non l'ho mai cagato proprio l'ho abbandonato così perché non lo so secondo me non mi dà l'impressione di essere un bel coso quindi pronti ok ci siamo il gioco iniziato allora non so minimamente cosa come potrei fare però però mi sembra abbastanza ragionevole come cosa siamo già morti come delle persone molto belle siamo già morti perché questo personaggio non va affatto bene qua ci vuole quello che e non ci ho fatto in tempo a cambiarlo perché mi ha respawnato solito va bene non ci facciamo troppo caso ci serve l'altro personaggio intanto facciamolo girare le canne ok fammi salire le canne oh oddio ho ucciso tipo troppe persone sono troppo bravo gg fammi salire vai ok eh sono morto perché io avevo meno vita no guarda che brutta faccia mamma mia mamma mia che brutta faccia non ci possiamo credere quali sarà la copertina del video sappiatelo quindi se avete la brutta faccia in copertina del video adesso mandatemi ciao ok ok no allora tranquillissimi allora siamo qua ci sono dei tizi che potrei prendere alle spalle però non l'ho fatto perché sono un po' stupido avete ragione vabbè accendiamo le canne ok scherzo che fa tanto non c'è mai nessuno ok accendiamo le canne ora ok noi siamo blu quindi non c'è capo no e certo è impossibile come ha fatto ci deve andare in fondo cioè no fammi cambiare classe fammi diventare no non questo questo ok questo qua normale che spara con razzi il soldato normale tanto allora avevo scoperto l'altra volta ok così si corre perfetto ok ehm avevo scoperto l'altra volta come si faceva tipo a correre ma adesso non tipo no in realtà scherzo l'ho già scoperto non so perché stavano molto belle soltanto per dire qualcosa e non allora ok siamo qua una cosa bella del tipo quello grosso di prima è che ha tantissima vita solo che boh il mitra del 13 così non non ci sta ok intanto però siamo qua sotto quindi possiamo tanto sparare alle persone là in fondo ok ok ricaricami perfetto lì intanto c'è qualcuno che posso prendere tranquillamente le spalle mi sono colpito da solo come un idiota mi sono colpito da solo come un idiota ma non ce la c'è in troppo caso ok quello lì è là sotto e sparare là in fondo dove ci sono tutti i tizi e cos'è qua sopra è bello ma adesso arriveranno tipo qua dietro oh esplode ok tu sei tu sei il nostro amico sorry 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 tu sei il nostro amico è vero è vero ok ok bisogna andarla sopra se ci buttiamo ce la facciamo andarla sopra non ne son troppo sicuro quindi non lo so ok qua basta direi di lanciarsi la scherzo no 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 mi beccano non devo morire ostia ho soltanto due proiettili ho soltanto due proiettili ora ho il fuciloide cessoso ora ho soltanto il fuciloide cessoso che tipo non fa mai nulla di danno devo prendere ok devo prendere della della vita che è tipo qua sotto ah ok vita ricarica oddio c'è troppo forte sono ok quando tu ricarichami tutto prego ok ora però sono svantaggiato perchè mi son messo qua sotto però intanto andiamo avanti con fare le cose allora ok la c'è quel tizio via oddio noi riusciamo da qua ora bello abbiamo sorpassato il secondo punto perfetto dai state su anche voi sul treno vai venite vieni dai no e sono morto volevo raccogliere l'arma fine vabbè certo il cecchino è impossibile tipo vederlo era da miliardi di metri cioè dai è troppo forte il cecchino vai ho appena raccolto le munizioni in da dove si esce da dove ok da qua questo ingresso nel teletrasporto che non porta nessuna parte ovviamente ok qua ci sono i tizi non li ho visti passare qua ci sono i tizi allora mi seguiamo il tizio tanto boh ci sta carica carica vita vita ok oddio sono lì sopra li vedete tipo molto poco stealth devo dire vai vai che lo uccido ah ok questo qua è il mio amico non l'avevo visto ok ok siamo tutti qua perfetto siamo avanzati un po' allora portatevi qua il carro ah ma il carro è dall'altra parte ma sono stupido il carro è dall'altra parte ovvio che qua non c'è nessuno mamma mia la deficienza totale e adesso dove sto andando ok sto scendendo già questa è una cosa abbastanza buona e bisogna andare di qua perfetto già questa cosa l'ho capita oddio no l'ho ucciso non l'ho ucciso per poco per poco in realtà non mi ha ucciso tipo nulla bello una cosa molto bella allora vai per favore vai ok grazie vai allora ci siamo quindi dobbiamo andare di qua perchè se no sbaglio intanto siamo tutti qua non dovremmo far fatica siamo tutti qua siamo questa non ce l'alzi va bene lo so già non c'è problema ok qua non esce nessuno vero? qua non c'è nessuno ok lì c'è il tizio che ho beccato no brucio brucio help me please dov'è dov'è la vita? no no eh vabbè volevo del anche adesso mi ha ucciso il nessuno bello in questa partita muoio per niente bello bello allora direi di fare una cosa molto tatticosa del tipo andare la sparare e poi fare tipo la tattica salta e poi cioè tipo fai il salto indietro così no che adesso non riesco a fare quindi ok qua ci sono dei tizi non c'è nessuno ok da qua lì c'è qualcuno sicuro it's been fun dai che è funny ok vai terzo punto preso questa eccola qua la tattica avete visto qua di saltare indietro così mentre tipo attacchi io devo prendere della vita per favore mi serve assolutamente della vita ok quello lì lo sto uccidendo abbastanza bene oh 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 ok oh ok va bene quello lì fra poco muore ok questo qua tipo oddio grazie curami stami 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 curami ancora rompito grazie mille ok mi serve solo delle come posso dire delle munizioni ora dove è che ci possono essere delle munizioni ok qua ci sono delle munizioni perfetto io voglio andare e grazie ok il tizioni mi sta seguendo però non mi serve che mi segui mi hai curato ti ringrazio ok quindi vai saltiamo sopra vai esplodi male spara non si ricaricava il fucile cioè il fucile il bazooka non si ricaricava perché tizio c'è vabbè vabbè eh va bene siamo abbastanza scarsi eh cioè stiamo vincendo questo ok però in compenso siamo molto scarsi cioè tutti noi siamo molto molto scarsi nel senso la squadra blu ok oh ho ucciso la ho ucciso un tizio spira della squadra rossa eh sono tutti qua sono tutti qua adesso ci serve ci serve quello lì lo prendo io lo prendo io silenzio lo prendiamo noi allora vai così subito andiamo subito l'attacco vai col tank ah però adesso non siamo più là oh ok quindi non ci serve più nooo sono morto con cosa con quello lì che è passato random così no con questo qua non mi trovo andiamo col soldato classico ok cosa sta succedendo qua perché è tutto così intersecato ok va bene va bene non ci siamo troppo a casa vai andiamo subito vai all'attacco munizioni che non serve mai nella vita perché qua è chiusa ok ok qua si sono uccise vincendo loro due perfetto quindi bisogna andare là dove c'è quella l'attrezzo là vedete l'attrezzo là non andare esattamente là bisogna solo andare oh 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 fi fi eh va bene dai che ciò possa fare allora è ancora che siamo tutti qua possiamo andare tranquillamente ok munizione munizione perfetto perfetto vai la vai la no ho colpito qualcuno ma non ho ucciso nessuno meraviglioso ok vai 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 dai spia viene ok bravo almeno non sei fk sei scarsa ma non vuol dire che sia fk già questa cordia è molto meravigliosa ok ora il treno sta tornando indietro cioè il treno la macchina quella macchina la sta tornando un po' indietro eh e non va affatto bene allora tu saliamo no ok dai state su bravi bravi così va più veloce state su salite sali 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 anche tu bravo ok vai che ce la possiamo fare andiamo avanti grandi no no oddio vedete visto come sono rimbalzato non so per quale oddio siamo invincibili vai allora no se non siamo più invincibili dai dai che siamo potenti dai che già possiamo fare state su non mollate sparate random a caso così come sto facendo io così beccate qualcuno manca l'ultimo punto no e vabbè qua mi sono questo mi sta che sono stato io tipo a fare del danno alla squadra poi che ho rilanciato la bomba e siamo morti tutti già ok dai però stiamo andando avanti molto molto bene tutto grazie alla tecnica di sparare random per non morire per non morire che qua non si può passare non si può passare in nessun modo meraviglioso quindi tu inutile va bene tu sei molto inutile ma non c'è troppo caso ok a difeso punto di controllo finale ok ok perchè è stato tuttiva così andiamo no? dai state su saliamo saliamo sparate random la sopra no guardate dov'è manca un nulla per arrivare alla fine dai guarda lo vedete manca uno sputo per arrivare alla fine andiamo a farcela dai dai questo punto qua è troppo lontano però dai 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 no 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 non dovevi non dovevi esserci qua guardate qua che bello che sono diventato eh lo so dai grande tizio vai allora vai ok ok qua ci sono altre robe incenerite ma non c'è troppo caso allora guardate l'acqua no sta tornando indietro ha iniziato a tornare indietro il punto cioè la macchinetta ha iniziato a tornare indietro non va bene vai grande ok vai aspetta vai no vai no no grande fammi scudo no 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 c'era anche lì il medico c'era anche lì il medico ma non ce l'ho fatta lo stesso perchè sono un pochino stupido no sta tornando indietro tutta la mia fatica vedi prima sta su senza morire in vana no non farcela arrivare la veloce vai la c'è un tizio non c'è sempre qualcuno mi help please spara ma cioè non lo so sta là sopra senza far nulla ok grande medico grazie grazie di esistere medico ok ti prevo cura mi cura mi cura mi cura mi cura mi serve la cura ok grande tizio vai 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 andiamo avanti vai grande ok vai no sto prendendo troppo danno grande medico no no mi sono incastrato medico where you are mette la torretta ingegnere ingegnere mette la torretta ok dai vai perfettamente ok fermi se andiamo da qua guardate come ce la possiamo fare mamma mia dai nooo volevo uccidere solo anti-tank lì in fondo ne ho ucciso uno no quasi ne ho quasi ucciso uno si vabbè questo qua beh ok volevo uccidere il tank nooo sta tornando al punto indietro dai dobbiamo farsela qua ma è sempre lo stesso punto lontanissimo odioso tra l'altro ma vabbè ma non sono troppo caso dai che ce la dobbiamo fare vai oddio ma tu sei qua cosa fai tu tizio oh anche tu cosa stai facendo qua lo so tanto muoio e va bene vai allora allora dobbiamo vincere o perdere esattamente questo video dura un po' troppo tanto e poi ci metto 20 ore a caricarlo su youtube lo so lo so è bello team fortress lo so lo dico io lì te voglio diciamo tutti che team fortress è bello un massimo mi sparo da solo non così tanto ok grande perfetto vai oh vai 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 no mi serve la vita ti prego di dammi vita grazie nooo dai vai per favore guardate là lo vedete manca pochissimo dai ce la dobbiamo fare figo oddio questa cosa sta laggando oh mio dio oh mio dio oh mio dio quanto lagga quello ok ok vai vai che cosa sta morendo guarda allora pensavo di fare il foro ma in realtà no oddio perchè tutto ah ah ero tipo ero tipo invincibile per poco tempo no ne hanno ucciso dai però dai 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 si brutto col cecchino eh dai vai ok ok tra l'altro è imbarazzante il numero di uccisioni che ho fatto con le personaggi il massimo è 2 che bello va bene ma non c'è troppo caso e andiamo pure avanti per cui ci sono quei giucci oh ci sono quello con le fiamme oh ma oh ma non ti avevo mica visto eh ma si può dai vai vai manca guardate manca un niente ce lo dobbiamo fare per favore fai allora abbiamo 3 ho 300 gb oh e tu ricarica vai anche tu cosa stai facendo qua ok grande grandi scout grandi scout ok la non c'è nessuna ma no 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 muori muori ora ok oddio troppo casino oh mio dio troppo casino guardate ma che bello questo qua è un bellissimo posto non possiamo fare robe ok ci sta qua sopra nooo sono caduto nooo mi ha ucciso il cecchino guardalo eh guardalo mamma mia il cecchino anche il cecchino è un personaggio che odio va bene spie il cecchino li odio anche quello quindi non lo userò mai ma in realtà il cecchino ma ci starebbe una volta a usarlo però no no andiamo a cadere nella trappola lezza ok vai nooo ma è possibile che ci sono 75 persone non riesco a colpirne una non riesco a colpirne ah l'ho ucciso mamma mia no perchè mi ha sparato perchè mi ha sparato solo un proiettile devo tipo prendere dei proiettili cioè più che altro la vita no help me please no ah non l'avevo visto pensavo di fare una cosa bella di andare qua dietro e uccidere invece nulla allora mmm ok vai oddio tra l'altro avete visto gli occhi di quel tizio quanto erano inquietanti tutti così aperti ma non c'è stato caso e continuiamo no sta per tornare qua indietro no è lì tipo esatto no allora vai per favore ok è morto ricarica ok no no non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta volevo sparare dentro i cosi ma non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta manca un minuto alla fine no 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 stiamo perdendo no no e ti hai capito? no ok tu ok tu stai l'ingegnere sta facendo qualcosa di carino questa funziona no non funziona ok l'ingegnere sta facendo qualcosa di abbastanza utile quindi vai ingegnere però devi farlo prima non adesso che la partita è finita no morite per favore ok vabbè sparando random qualcuno morirà avanti cioè sparando no il cecchino no non sembra stato il cecchino strano non è stato il cecchino 20 secondi alla fine non possiamo vabbè ormai abbiamo perso cioè è impossibile recuperare però almeno difendiamoci con potenza questa non funziona perfetto quindi non riuscirò nemmeno ad essere la al punto centrale della morte quando finisce il tempo 10 seconds no no fine abbiamo perso no un vero peccato ma comunque da Jurassic 8 10 è tutto vi dico veramente un bel mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Team Fortress 2 quindi ciao a tutti